Grazie a tutti. Siamo con le autorità locali, con gli enti regionali e possiamo influenzare le politiche a livello locale e regionale. Siamo anche coordinatore regionale e l'agenzia gestisce anche attività di interesse pubblico. Le competenze tematiche sono l'implementazione di vari progetti in diversi ambiti e abbiamo implementato diversi progetti come Lead Partner e Partner di progetto. Oggi vi presenterò il Partner Interreg Stream, che è un progetto di cooperazione trasfrontaliera Italia-Croazia. Vi parlerò dei metodi che sono stati implementati nel progetto per poter gestire le alluvioni. Adesso cerco di condividere il mio schermo. Vedete il mio schermo? Benissimo. Il progetto Scream è un... Vediamo la presentazione ma non in modalità presentazione. Magari hai condiviso la schermata sbagliata. No. Sembra un'altra finestra. No. Sembra un'altra finestra. Per caso hai due monitor? Uno l'ho spento. Ho fatto delle prove prima. Allora, blocca la condivisione. Adesso condividi di nuovo. Ok, ok. Adesso ci siamo. Adesso ci siamo. Il progetto Scream è un progetto Interreg di cooperazione tra Italia e Croazia. è l'acronimo di Strategic Development for Strategic Development of Flood Management. Il contributo delle conoscenze sulle alluvioni nell'area oggetto del progetto e migliorare la gestione delle alluvioni a livello locale. Insegnare le persone come comportarsi in caso di rischio alluvioni e per ridurre le perdite umane e sociali causate dalle alluvioni. Il budget del progetto totale è poco meno di 9 milioni e mezzo di euro. Il progetto è iniziato ad aprile 2020 e finirà a giugno 2023. Ci sono 16 partner nel progetto, quindi Zadranova è il partner leader, la Dubrovnik, gli istituti pubblici di Likasen County, la Contea di Karlovac, la Contea di Parenzo, la città di Venezia, la Uav, l'Università di Venezia, l'Università di Zara. L'Agenzia Nazionale per la Prevenzione dell'Emilia Romagna, l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio di Puglia, la Puglia, l'Istituto della Scienze Marine, CNR, ISMAR e il CMCC, l'Università Tecnica delle Marche, la Marche Regione Marche. Quindi abbiamo 7 partner croati e 9 partner italiani. La rilevanza del progetto è manifestata in diversi punti delle aree del progetto. Innanzitutto i cambiamenti climatici che causano diversi tipi di alluvioni, le inondazioni fluviali, le inondazioni pluviali, le inondazioni da ammareggiate. Vediamo anche che l'influenza dei cambiamenti climatici ha un... Vedete qui Zara, una delle alluvioni peggiori nella storia di Zara, che è avvenuto nel 2017, l'11 settembre, che è una data importante, come sapete, nella storia mondiale, soprattutto nella storia di Zara. E scenari simili sono avvenuti in Italia e in Croazia. L'influenza dei cambiamenti climatici ha raddoppiato il rischio di piogge intense e gli impatti delle alluvioni possono ridurre e possono causare danni alle abitazioni, possono distruggere bestiame e coltivazioni, ci sono costi di pulizia e c'è anche una risposta di emergenza. Il secondo punto importante del progetto è quello che riguarda le misure di cooperazione trasfrontaliera, perché l'Italia e la Croazia condividono il partner del progetto SCREAM, lavorano insieme e mettono a punto degli strumenti per monitorare i rischi e delle procedure di allerta immediata. Si condividono i dati, c'è uno scambio di pratiche, i schemi di capacity building, che aumenteranno il know-how degli stakeholder nell'area del progetto. I risultati del SCREAM saranno trasferiti e messi in pratica in altre zone costiere che affrontano problemi simili. Un altro punto importante è quello di workshop organizzati, giornate informative di venti. per aumentare le conoscenze delle persone siccome comportarsi in caso di alluvioni. E naturalmente i corretti comportamenti da adottare sono fondamentali per ridurre il numero di vittime al minimo possibile. E questo viene fatto a livello congiunto. A Zara vi parlo dei risultati del progetto che riguardano i sistemi di drenaggio intelligente. Sono le nostre attività pilota che vengono attuate proprio in questo momento. Abbiamo tre location nella contea di Zara dove stiamo attuando i sistemi di drenaggio intelligente. Uno è in un parco che si chiama Vrulizza nel centro di Zara. L'altro è nel cortile di una scuola elementare. E il terzo è vicino a un fiume, un fiume che collega la città di Zara a quella di Biograd. A causa della pandemia da Covid e il prolungamento del progetto, le costruzioni sono un po' in ritardo. Quindi solo quello, il secondo, quello della scuola di Plozza è già finito. Per gli altri dovremmo aspettare ancora qualche mese. Volevo parlarvi di quello che per noi è più importante nel centro di Zara. Questo parco che si chiama Vrulizza e di solito sono le piogge intense che causano problemi di traffico e problemi anche a livello di natura. Abbiamo deciso di fare questi giardini di pioggia. Quindi noi raccogliamo l'acqua piovana, filtriamo gli inquinanti. E vedete che è molto molto semplice. Noi scaviamo una conca o un avalamento e mettiamo delle piante autoctone e quindi possono avere delle misure molto grandi a livello industriale e anche di pochi metri. E vedete quindi la pioggia piovana che viene raccolta. E questi giardini creati dalla pioggia possono far parte anche del sistema di drenaggio. Vedete che raccolgono grandi quantità di acqua piovana che viene usata per l'irrigazione. Questa è la progettazione del nostro giardino della pioggia che si chiama Rain Garden. Lo chiamiamo Rain Garden. Non so se riusciate a vederlo bene. È scritto tutto in croato ma cerco di capirlo, di spiegarvi nel miglior modo possibile. Vedete la parte verde è il Rain Garden. Vedete l'asfalto, la strada. Vedete un canale che serve per il drenaggio. L'acqua che viene drenata dalla strada passa attraverso le tubature. Ci sono delle tubature al di sotto che sono un sistema di fognatura che convogliano l'acqua ad un separatore e le depura. Quindi l'acqua depurata che proviene dai separatori va nel modulo della pioggia e viene usata per l'irrigazione. In questa foto potete vedere l'inizio della costruzione del Rain Garden. Vedete che c'è una conca profonda che contiene questi moduli per la pioggia che sono collegati alle tubature. I moduli della pioggia, la capacità è di 6 metri cubi e possono veramente raccogliere grandi quantità di acqua piovana che poi viene utilizzata per irrigare. Vedete questo è lo stato attuale. Quindi stiamo piantumando, stiamo per piantumare le piante autoctone che faranno parte del Rain Garden con i moduli per la pioggia che sono al di sotto. In questo modo cerchiamo di essere in armonia con la natura, prevenire le alluvioni e ridurre l'acqua usata per le irrigazioni. Purtroppo abbiamo avuto delle piogge molto consistenti negli ultimi mesi e non riusciamo a finire i lavori. Speriamo di finire entro l'inizio del prossimo anno. E naturalmente saremo molto lieti di vedere le piante, vedere l'irrigazione e tutto ciò che è stato progettato. Quindi i Rain Garden non solo prevengono le alluvioni ma abbelliscono la città perché aggiungono arei verdi. Quindi ho finito, grazie mille dell'attenzione. Spero che la mia presentazione sia stata chiara. Grazie Andrea. Ci sono domande? Ci sono domande dal pubblico? Io ho una domanda veloce. Mi piace molto questa soluzione. Quanto queste piccole attività possono aiutare a mitigare le alluvioni? Avete fatto degli scenari su come queste cose possano cambiare la situazione? Che ne so, in 50 anni? Tra 50 anni? O ci sarà bisogno di più, più di questi esperimenti per avere un effetto? C'è bisogno di più. Queste piccole soluzioni possono dare un forte contributo. Perché stiamo sperimentando, stiamo vedendo che si cerca di costruire. Ci sono poche infrastrutture verdi. E nei nostri centri urbani c'è tanto bisogno di verde, di soluzioni come questi Rain Garden. Attualmente i progetti di Porec, di Parenzo, hanno un meeting. Abbiamo avuto un meeting, siamo stati, abbiamo visitato il Rain Garden che hanno fatto qualche anno fa a Pola. Non ci crederete, ma adesso ne stanno costruendo un quarto, addirittura un quinto. Si vedono i risultati. Perché hanno avuto un forte impatto sulle alluvioni. Quindi con questi quattro Rain Garden hanno anche abbellito l'ambiente. Non è facile vedere che sotto ci sono questo sistema fognario, ci sono queste tubature, non si vede il sotto. si vede innanzitutto quanto è bello. Non si vede tutta la costruzione che sta al di sotto del giardino. E questo secondo me è il modo migliore per affrontare il problema delle alluvioni che purtroppo fanno parte della nostra vita quotidiana in Italia come in Croazia. Grazie, grazie mille. È un bellissimo progetto. Mi piace vedere che la bellezza fa parte della soluzione. Quindi congratulazioni. Grazie, grazie mille. Congratulazioni del lavoro che avete svolto.